Settima lezione del corso di Biologia. In questa lezione parlerò della Terra primordiale e dell'origine della vita. Vedremo come si è formata la Terra e come appariva all'inizio della sua storia. Parlerò della storia della vita sul pianeta. Vedremo cosa sono i fossili e come vengono utilizzati per la datazione geologica. Poi parlerò della teoria di Darwin e del meccanismo della selezione naturale. E infine spiegherò la filogenesi della vita, ovvero tutta quella metodologia per poter classificare gli esseri viventi sulla Terra. Cominciamo e cominciamo con la formazione della Terra. Come tutti gli altri pianeti del Sistema Solare, la Terra si è formata dalla condensazione da una nube molecolare in una sfera di materiale incandescente modellata dalla forza di gravità. Questo disco di gas e polveri che si è sviluppato a formare un disco intorno al Sole e col tempo ha dato origine a tutti i pianeti del Sistema Solare. Però gli eventi che hanno caratterizzato l'evoluzione del pianeta all'inizio della sua storia sono stati principalmente due. Il primo è stato l'impatto tra la prototerra e un pianeta grande quanto Marte. Infatti in questa zona del Sistema Solare in formazione c'erano almeno un centinaio di oggetti di dimensioni planetarie e prima che il sistema si stabilizzasse nei pianeti che conosciamo oggi l'ambiente era molto più affollato. Ci sono stati molti impatti, molte espulsioni dal sistema e molti altri oggetti sono caduti sul Sole. Tra questi eventi in particolare sembra che un oggetto grande quanto Marte abbia colpito il pianeta. Questo lo sappiamo perché la Terra è inclinata di 23 gradi, quindi l'inclinazione del pianeta è una conseguenza di questo mega impatto perché la Terra ha un nucleo di metallo molto grande e quindi questo nucleo di metallo deve essersi formato per accrezione dal nucleo metallico di questo oggetto impattante e poi perché abbiamo la Luna. La Luna si è formata grazie al materiale di crosta e mantello di entrambi i corpi che è stato eiettato in orbita grazie all'impatto e poi si è solidificato in oggetto unico. Quindi la Luna è il risultato di questo mega impatto. Questo è il primo evento che ha condizionato la storia futura della Terra. Infatti la stessa Luna, come vedremo, è sempre stato un fattore essenziale che ha condizionato la vita sulla Terra. Poi abbiamo un altro secondo evento che ha condizionato tutta la storia del pianeta che è l'intenso bombardamento tardivo. Infatti in quel periodo il sistema solare esterno si stava riorganizzando. Pianeti come Urano e Nettuno hanno invertito le loro orbite, quindi si sono letteralmente scambiate di posizione e questo grande sconvolgimento nel sistema solare esterno ha messo in subuglio tutti i corpi minori che affollavano la cintura di Kuiper, ovvero la cintura di comete che si trova nel sistema solare esterno. Questo sconvolgimento nel sistema solare esterno ha scagliato verso il sistema solare interno una grande quantità di oggetti minori. In quella zona del sistema solare erano presenti più che altro comete, quindi corpi ghiacciati e quindi la Terra ha subito un grande impatto di questi oggetti. Qui possiamo vedere un grafico che mostra l'intensità degli impatti che ha subito la Terra. Abbiamo una grande quantità di impatti proprio all'inizio della formazione del pianeta, proprio perché in questa zona del sistema solare c'era tanto materiale che poi col tempo è diminuito, poi c'è stato un momento di relativa calma e poi intorno ai 3,9 miliardi di anni fa c'è stato questo picco di impatti dovuto proprio a questo intenso bombardamento tardivo. Come facciamo a sapere che c'è stato questo evento? Perché grazie alle sonde spaziali durante gli ultimi 50 anni sono stati esplorati gli altri pianeti del sistema solare interno, come ad esempio la Luna, Marte e Mercurio, ma anche Venere e la Terra, anche se questi ultimi due, una tettonica e un vulcanismo attivo e un'atmosfera molto densa, hanno cancellato molto rapidamente questi segnali. Però oggetti senza atmosfera e senza tettonica, come la Luna o come Mercurio o anche come Marte, hanno conservato tantissimo le tracce di questo evento e quindi sappiamo che tutto il sistema solare interno, intorno a 3,9 miliardi di anni fa, è stato colpito da questo intenso bombardamento tardivo. Secondo alcuni scienziati, questo intenso bombardamento tardivo è stato causato dall'inversione delle orbite di Urano e Nettuno. Cosa è portato tutto questo? Questi oggetti ghiacciati hanno portato molta acqua, perché ovviamente proveniendo dal sistema solare esterno, erano costituiti principalmente da volati ghiacciati come acqua ammoniaca e altre sostanze organiche, che cadendo sulla Terra hanno di fatto contribuito a riempire i futuri oceani. Quindi gran parte dell'acqua che oggi abbiamo negli oceani proviene proprio dalle comete cadute in quel periodo storico. C'è addirittura chi dice che la vita poteva essere cominciata anche prima di questo evento, ma che sicuramente questo evento l'ha cancellata completamente. Non abbiamo prove che ci sia stata vita prima di questo evento. La Terra è un pianeta molto antico, esiste già da 4,5 miliardi di anni e pare che la vita sia stata una costante in tutta la sua storia. Però è stata vita batterica o comunque sia una vita molto semplice per gran parte della sua storia. Solamente nell'ultimo mezzo miliardo di anni la vita è diventata qualcosa di più interessante, costituita da organismi complessi, multicellulari e anche senzienti. Qui vediamo una mappa temporale della storia della Terra che divide la sua storia in quattro eoni. Abbiamo l'Adeano, quando la Terra era ancora in formazione con la crosta fusa e una grande attività vulcanica, poi abbiamo l'Archeano che comincia con la fine dell'intenso bombardamento tardivo e la formazione della vita con i primi organismi prokariotti e le prime vie metaboliche fotosintetiche. Poi abbiamo il proterozoico dove l'ossigeno prodotto da queste prime forme di vita fotosintetiche riempie l'atmosfera agli oceani e trasforma chimicamente il pianeta. Infine abbiamo il fanerozoico che sono gli ultimi 540 milioni di anni in cui la vita è diventata qualcosa di veramente complesso con organismi multicellulari, foreste e animali senzienti. Infatti alla fine di questo periodo arriviamo noi esseri umani. Tutto quello che ci affascina della pre-storia, i dinosauri, i mammiferi, le foreste, questo mondo vergine ricco di vita che ci viene insegnato nelle scuole avviene tutto quanto negli ultimi 500 milioni di anni perché per miliardi di anni la Terra ospitava forme di vita solamente batteriche o al massimo qualche alga. Quindi per tutta la storia della Terra solamente nell'ultimo mezzo miliardo di anni la vita è stato qualcosa di veramente spettacolare e affascinante mentre prima per lo più erano oceani ricchi di batteri e alghe. Vediamo bene in dettaglio come è cominciata la vita sulla Terra. Questo è l'Adeano. Nell'Adeano la crosta terrestre era in formazione e la superficie del pianeta aveva una temperatura di 4000 gradi. Ovviamente nessuna forma di vita poteva ancora esistere in questo ambiente. Infatti gli scienziati non immaginano che ci sia stata vita in questo momento storico, a meno che oggi si pensa che durante la fine di questo periodo la Terra aveva già avuto la possibilità di ospitare gli oceani. Infatti i gas vulcanici condensavano vaporeacqueo in atmosfera e questo vaporeacqueo poteva riempire i primi oceani con precipitazioni torrenziali creando quindi le condizioni idonee a qualcosa che poteva essere vivente. Secondo alcuni scienziati già alla fine dell'Adeano poteva esserci la vita, ma non lo possiamo sapere perché subito dopo questo periodo è cominciato l'intenso bombardamento tardivo che ha cancellato qualsiasi prova. Infatti finito questo periodo la Terra ricomincia da capo, quindi se ci fosse stata qualsiasi forma di vita sulla Terra prima dell'intenso bombardamento tardivo è stata tutta quanta sicuramente cancellata. Dopo questo evento astronomico catastrofico comincia l'archeano e qui abbiamo le prime vere prove della forma di vita. In realtà le prime vere prove risalgono a 3,5 migliaia di anni fa, però erano organismi fotosintetici. Visto che la via metabolica fotosintetica è già qualcosa di elaborato, di molto elaborato, gli scienziati immaginano che la vita sia cominciata anche prima, quindi secondo gli scienziati appena l'intenso bombardamento tardivo è cessato e il pianeta è tornato a essere un ambiente tranquillo, gli oceani si sono di nuovo riempiti di forme di vita e quindi gli scienziati ufficialmente pongono l'inizio della vita sulla Terra a 3,8 miliardi di anni fa o 3.800 milioni di anni fa, con la comparsa della prima molecola genetica più semplice, l'RNA. Quindi, riassumendo, secondo molti scienziati la vita potrebbe essere comparsa anche prima di questi 3,8 miliardi di anni, ma eventi astronomici estremi come l'intenso bombardamento tardivo debba averla estinta anche più di una volta, quindi probabilmente la vita è cominciata anche più di una volta sulla Terra, ma poi è stata distrutta o quasi cancellata completamente più volte. Poi i gas vulcanici, prima dell'intenso bombardamento tardivo, potrebbero già aver fornito l'acqua ai primi oceani della Terra, però la gran parte dell'acqua che oggi riempie gli oceani deriva proprio dalle comete che hanno impattato la Terra durante questo intenso bombardamento tardivo. Quindi è arrivata altra acqua dallo spazio per gli oceani del pianeta. Questa è la parte della storia della Terra che conosciamo di meno, sia perché è molto lontana del passato e sia perché gli eventi successivi hanno cancellato tutte le tracce possibili, quindi studiando gli altri pianeti del sistema solare e quelle poche tracce che possiamo trovare oggi sulla Terra, gli scienziati immaginano che sia andata così. Poi cosa succede? La Terra comincia ad essere un ambiente idoneo per la funzione della vita. I gas vulcanici e le comete apportano volatili, cioè elementi chimici leggeri come acqua, ammoniaca, anidicarbonica e contribuiscono a formare la prima atmosfera terrestre che è priva di ossigeno. Infatti la vita nasce sulla Terra prima che la sua atmosfera possa avere dell'ossigeno libero e questo è un fattore importante. Infatti l'ossigeno come vedremo poi è un prodotto delle prime forme di vita con la loro fotosintesi. La geologia del pianeta ha da sempre avuto un ruolo importante nella nascita, evoluzione e mantenimento della vita sulla Terra. Questo perché l'attività vulcanica è stata la prima ad aver generato un'atmosfera sul pianeta, quindi i vulcani emettevano anidicarbonica e vaporeacqueo che sono stati da sempre i costituenti principali della nostra atmosfera. Questa anidicarbonica e questo vaporeacqueo emesso dai vulcani hanno costituito un importante effetto serra. A quell'epoca il Sole era una stella appena nata, era almeno del 50% più fredda e meno luminosa di quella che conosciamo oggi e questo intenso effetto serra serviva a mantenere il pianeta tiepido abbastanza da poter ospitare acqua liquida in superficie. Quindi l'effetto serra generato dai gas vulcanici ha reso fin dall'inizio la Terra un pianeta idoneo ad ospitare acqua liquida in superficie. Perché l'acqua liquida è così importante per la vita. Perché l'acqua liquida è quel solvente ideale alla giusta temperatura per poter ospitare le reazioni chimiche idonee alla vita. Infatti negli oceani primordiali questa sostanza, l'acqua, scioglieva le rocce e manteneva in sospensione una numerosa quantità di sostanze chimiche. L'acqua è una molecola polarizzata, ovvero un lato della molecola è negativo e altri due sono positivi e questa intensa polarizzazione la rende un solvente perfetto, ovvero una sostanza chimica che scioglie e mantiene in sospensione molte sostanze chimiche, specialmente quelle saline. Visto che in superficie senza ossigeno e quindi anche senza strato di ozono la radiazione ultravioletta del Sole rendeva impossibile la costituzione di molecole complesse come proteine e DNA, nei fondali oceanici le sorgenti geotermiche erano la sorgente energetica naturale, che le prime forme di vita hanno potuto sfruttare. Infatti secondo molti scienziati le prime forme di vita si sono formate proprio in concomitanza delle bocche geotermiche nei fondali oceanici, dove il calore dei vulcani e le numerose sostanze chimiche disciolte nell'acqua creavano l'ambiente ideale per tutte quelle reazioni chimiche che hanno dato inizio ai primi metabolismo cellulari. Che cos'è la vita? La vita ancora oggi è un mistero, è un fenomeno per cui materia ed energia danno origine a dei sistemi complessi che possono reagire con l'ambiente esterno per mantenere un ordine complesso al loro interno. Quindi una combinazione perfetta di elementi che danno origine a materia vivente. Le sue caratteristiche per definirla sono queste. Intanto ricettività, ovvero reagisce in base ai cambiamenti ambientali che la circondano. Poi crescita, la vita tende a crescere e aumentare la sua massa. Poi la trasformazione di energia. La vita esiste solamente se nell'ambiente c'è un flusso energetico costante e continuo che può essere utilizzato come appunto sulla Terra le sorgenti geotermiche, i vulcani, e poi successivamente con la fotosintesi la luce solare. Poi la riproduzione. Tutte le forme di vita hanno la caratteristica di potersi rigenerare. Quindi oggi sulla Terra ci sono ancora forme di vita perché queste si rigenerano in continuazione. Infine il metabolismo, ovvero quella capacità di avere a suo interno una serie di reazioni chimiche e fisiche che smantellano e costruiscono molecole complesse, come ad esempio proteine e DNA. Queste sono le cinque caratteristiche che differenziano i sistemi viventi da i sistemi non viventi. E la vita può essere riassunta come un'entità chimica autosufficiente e capace di evoluzione darwiniana per selezione naturale. Gli scienziati dividono la storia della Terra in quattro grandi eoni. Il primo è l'eone adeano. In questo momento la Terra è in formazione con la crosta ancora costituita da magma fuso e continuamente bombardata da oggetti provenienti dallo spazio. Alcuni scienziati ritengono che in alcuni momenti di questo eone la Terra poteva già ospitare degli oceani e quindi si pensa che ci sia già stata la vita, ma l'intenso bombardamento tardivo avvenuto alla fine della deano ha cancellato qualsiasi prova, quindi non possiamo effettivamente sapere com'era la Terra in questo momento, possiamo solamente immaginarla. Però alla fine di questo momento comincia l'eone archeano. In questo momento la Terra è un ambiente più stabile, sicuramente abbiamo i primi oceani e intorno ai 3,5 miliardi di anni fa sono datate i fossili delle prime forme di vita, ma già questi fossili presentavano dei batteri con un metabolismo molto elaborato, quindi si pensa che la vita fosse anche antecedente a questo periodo e gli scienziati mettono un inizio ufficiale della vita sulla Terra intorno ai 3,8 miliardi di anni fa. Durante questo eone la vita sviluppa il metabolismo della fotosintesi e verso la fine del leone archeano la Terra comincia a riempirsi di ossigeno, si chiama grande evento ossidativo, in cui l'ossigeno che è un prodotto di scarto della fotosintesi comincia dapprima ad accumularsi negli oceani, poi nell'atmosfera e poi ad alta quota a formare lo strato di ozono. Tutto questo ossigeno all'epoca era tossico per gli organismi che sono nati e vissuti per milioni di anni su un pianeta senza ossigeno e quindi c'è stata una prima grande estinzione di massa, anche se stiamo parlando sempre di batteri. Cosa è successo? Che chi è sopravvissuto o l'ha fatto metabolizzando l'ossigeno e quindi adattandosi a un nuovo ambiente fortemente ossidante, oppure si è andato a nascondere lì dove l'ossigeno non poteva raggiungerlo, come i fondali oceanici o l'interno della cosa terrestre. Ancora oggi sulla Terra ci sono molti organismi che vivono in ambienti anaerobici, senza ossigeno. E il grande evento ossidativo dà inizio al eone proterozoico. In questo eone compaiono le prime cellule eucariote, ovvero le cellule più elaborate di quelle procariote, perché il DNA si trova conservato all'interno di un nucleo nella cellula e perché contengono molti altri organoli con specifiche funzioni, quindi la cellula diventa qualcosa di più elaborato. Sempre nell'eone proterozoico, poco più di un miliardo di anni fa, le cellule eucariote si organizzano nei primi organismi multicellulari, che sono molto semplici ancora. Però intorno alla fine di questo eone compaiono i primi animali dal corpo molle. Infatti abbiamo le prime forme di vita più complesse, cioè i veri e propri animali, intorno a 600 milioni di anni fa. Da qui in poi comincia leone farenozoico, esattamente a 542 milioni di anni fa, quando una grande estinzione mette fine a questi primi animali chiamati Fauda di Eudiacara, che oggi sono totalmente scompassi, e compaiono gli animali di cui gran parte ancora oggi popolano il pianeta. Fino a 400 milioni di anni fa la vita è sempre stata acquatica, intorno ai 400 milioni di anni fa la vita comincia a colonizzare le terre emerse. Oggi la Terra è un pianeta pullulante di vita, nonostante le attività umane che stanno causando grandi danni all'ecosistema, e di fatto non c'è mai stata così tanta vita sulla Terra come ce n'è oggi. Andiamo avanti e vediamo come è cominciato tutto quanto. Questa è la ricostruzione di come doveva apparire la Terra poco dopo l'intenso bombandamento tardivo. Nei primi mari, con basso fondale e molto caldi, si sono formate le prime forme di vita di archiobatteri, o comunque sia organismi procarioti, dove il DNA non è strutturato bene in un nucleo, ma si trova così sparso nel citoplasma. Per miliardi di anni la vita sulla Terra è stata sotto forma batterica. Gli scienziati non hanno ancora capito come hanno fatto delle molecole organiche semplici a organizzarsi strutture ordinate e complesse come un essere vivente. Quello che sappiamo è che all'inizio della storia della vita della Terra c'erano molte molecole organiche che galleggiavano in questo mare primordiale. Infatti non si conosce esattamente quando la chimica è diventata biologia, ma gli scienziati studiano l'ambiente primordiale terrestre per comprendere quali siano stati i passaggi affinché delle stupide molecole, le chiamo stupide perché le molecole ovviamente non hanno un'intelligenza propria, organiche come aminoacidi, lipidi, carboidrati e acidi nucleici, si siano organizzate in un sistema complesso organizzato come un essere vivente. Da qui posso parlare dell'esperimento di Miller. Miller fu questo scienziato che negli anni cinquanta provò a riprodurre dentro delle ampolle l'ambiente terrestre primordiale. Quindi in un'ampolla aveva riprodotto l'atmosfera terrestre primordiale, acqua, ammoniaca, metano, idrogeno e anidride carbonica e all'interno di questa ampolla c'era un elettodo che simulava i fulmini nell'atmosfera con delle scariche elettriche. Questa ampolla era collegata a un'altra che doveva simulare l'oceano primordiale, quindi l'acqua con delle sostanze disciotte che potevano esserci nell'antico oceano primordiale e rendendo attivo questo meccanismo per alcune settimane è andata a studiare i prodotti che si sono ottenuti da queste reazioni chimiche. E tra i prodotti delle reazioni chimiche avvenute all'interno di questo sistema sono stati trovati alcuni aminoacidi che ancora oggi compongono le proteine di cui siamo fatti e successivi esperimenti più complessi che simulavano la varietà degli ambienti terrestri hanno prodotto una grande quantità di altre molecole complesse che oggi costituiscono gli esseri diventi come ad esempio alcuni basi azotate che sono i mattoni del DNA. Quindi questo signore ha provato che nell'ambiente primordiale terrestre c'erano già tutti gli ingredienti per poter costituire gli esseri diventi. Il problema è capire come hanno fatto a organizzarsi nei complessi sistemi che sono di fatto i primi organismi unicellulari. Vediamo le stromatoliti. Le prime testimonianze geologiche della vita risalgono a 3,5 miliardi di anni fa, però vi ho detto che già queste avevano un metabolismo molto elaborato, quindi sicuramente la vita è cominciata prima. E sono rappresentate dalle stromatoliti, strutture biocostruite da batteri fotosintetici che erano diffuse lungo le coste e i fondali bassi di tutto quanto il precambriano. Questa è una sezione. Come funziona? In realtà questa è una roccia fatta da sedimenti, però sono stati questi cianobatteri a costruire questi sedimenti che accrescendosi generazione dopo generazione hanno creato tutti questi strati gli uni sopra gli altri. Addirittura è stato possibile risalire alla velocità di rotazione terrestre proprio esaminando questi strati, perché questi erano organismi fotosintetici e quindi il loro metabolismo e la loro crescita era condizionata proprio dal ciclo giorno-notte. Qui vediamo una sezione di questa roccia che mostra tutti gli stati biocostruiti, cioè costruiti da questi organismi viventi, e possiamo vedere che esistono ancora oggi. Le stromatoliti esistono ancora e sono le antenate delle nostre attuali barriere coralline. Infatti le attuali barriere coralline sono l'evoluzione di questi antichi organismi unicellulari. In molte zone selvagge dell'Australia le possiamo trovare in acque calde, luminose e poco profonde. Le moderne stromatoliti generano strutture sedimentarie simili a quelle delle loro antenate nel pregambriano. Vediamo com'è possibile datare le rocce. I geologi conoscono in dettaglio l'età della Terra e degli eventi più importanti della sua storia, grazie al decadimento radioattivo degli isotopi instabili di alcuni elementi chimici. La fossilizzazione è un evento rarissimo, ma visto il gran numero di occasioni nella storia geologica della Terra in cui organismi viventi, piante o animali, finiscono seppelliti dai sedimenti prima che possano essere decomposti, questo ci permette di avere a disposizione un gran numero di fossili da studiare nelle rocce. La fossilizzazione avviene quando un organismo seppellito nei sedimenti, invece di essere decomposto, lascia un calco all'interno dei sedimenti che col tempo può essere riempito da minerali. In alcuni casi gli stessi resti vengono letteralmente sostituiti da cristalli minerali, quindi in alcuni casi avviene proprio una mineralizzazione dell'impronta fossile lasciata dall'essere vivente. Quindi in realtà questo fossile è di fatto uno stampo che l'essere vivente ha lasciato prima di decomporsi e poi questo vuoto è stato riempito da minerali che ne hanno preso la forma all'interno della roccia. Lo studio dei fossili e della datazione radiometrica delle formazioni rocciose in cui sono conservati ci permettono di ricostruire la sequenza degli eventi più importanti della vita. Ad esempio questa fotografia è stata fatta a Gubbio in Umbria, qui abbiamo due formazioni rocciose, una ricca di foraminiferi che sono organismi marini tipici di un mare caldo e poco profondo e una invece povera di questi stessi foraminiferi. In mezzo c'è un limite di argilla, un piccolo strato di argilla, spesso appena un centimetro, che contiene una grande quantità di irridio, che è un elemento chimico molto ricco nei meteoriti. Gli isotopi radiattivi contenuti all'interno di questo strato ci danno una datazione di 66 milioni di anni fa. Adesso vi spiegherò come avviene la datazione. Quindi grazie al decadimento radiattivo di questi antichimici sappiamo che questo strato ha almeno 66 milioni di anni e separa due ambienti, un mare ricco di vita e un mare povero di vita. Che cosa è successo? Questo è l'evento che testimonia la fine dei dinosauri. Praticamente questo strato di argilla si è depositato dopo l'impatto del meteorite. Una volta che il meteorite ha colpito la Terra si è vaporizzato nell'atmosfera e i suoi resti insieme ovviamente all'irridio si sono diffusi in tutto il pianeta andandosi a depositare lì nelle zone di sedimentazione, come ad esempio i bacini marini, come era questo ambiente all'epoca. Quindi studiando gli strati rocciosi, datandoli con gli isotopi e osservando i cambiamenti nella loro documentazione fossilifera, possiamo risalire agli eventi del passato, come ad esempio qui ben testimoniato l'evento che ha messo fine all'epoca dei dinosauri. Diversi isotopi di elementi chimici instabili hanno diversi tempi di decadimento, quindi non tutti gli elementi chimici decadono con la stessa velocità ed è possibile datare rocce di età diverse grazie a elementi chimici diversi. Per poter utilizzare un isotopo va considerato il periodo di decadimento o emivita, che sarebbe il tempo che impiega affinché possa decadere in uno stato di roccia la metà degli isotopi radioattivi che in esso contiene. Adesso vediamo in dettaglio questo concetto. Perché questi isotopi sono radioattivi? Cominciamo a vedere che cos'è un isotopo. Alcuni atomi hanno più neutroni che protoni nel loro nucleo, tanto da rendere l'intero atomo instabile e quindi radioattivo. Se vi ricordate un atomo è costituito da protoni e neutroni nel nucleo, e queste due particelle costituiscono il nucleo atomico, ed elettroni che ruotano intorno ad esso neutralizzando la carica elettrica del nucleo. Questa è la struttura atomica di un atomo standard normale. Può capitare che alcuni atomi hanno un maggior numero di neutroni rispetto ai protoni. Questi atomi sono detti isotopi. Se i neutroni sono troppi, l'intero atomo rimane stabile e può perdere questi neutroni sotto forma di radiazione. Come avviene? Abbiamo un atomo con un numero extra di neutroni. Questi neutroni extra possono essere persi sotto forma di radiazione. Quando è che l'atomo smette di essere radioattivo? Quando, perdendo i neutroni, torna ad avere un equilibrio, quindi una conformazione stabile, tra il rapporto di neutroni e protoni nel nucleo. Quindi si dice che l'atomo decade in una forma più stabile. Ogni isotopo ha un diverso tempo di decadimento, definito appunto emivita, quello che ho accennato nella strada precedente. E qui vediamo in questa tabella i diversi periodi di emivita dei diversi isotopi radioattivi utilizzati nella datazione. Per esempio, il carbonio 14 è un isotopo radioattivo molto utilizzato in biologia, perché noi esseri viventi respiriamo l'aria nell'atmosfera, comunque siamo in un costante equilibrio chimico con l'atmosfera, perché mangiamo e respiriamo ciò che c'è nell'ambiente intorno a noi, e nell'ambiente intorno a noi c'è una quantità sempre costante di carbonio 14, che si forma grazie alle radiazioni cosmiche che vengono dallo spazio. Una volta che un essere vivente smette di mangiare e respirare, quindi quando muore, smettiamo anche di assorbire il carbonio 14 dell'atmosfera. Dal momento della morte, il carbonio 14 nel corpo degli esseri viventi comincia a diminuire. Con che frequenza? La sua quantità si dimezza ogni 5730 anni. Questo ci permette di poter datare il tempo che è passato da quando quell'essere vivente ha smesso di mangiare e respirare, quindi da quando è morto, fino a un massimo di 60.000 anni. Infatti poi vedremo che il carbonio 14 viene utilizzato per la datazione di resti viventi recenti, come ad esempio mummie dell'antico Egitto o mammut rimasti intrappolati nel ghiaccio. Ovviamente non è possibile datare i resti di esseri viventi di milioni di anni fa, perché il carbonio 14 presente all'interno dell'estri vivente finisce dopo i 60.000 anni. Ovviamente è già difficile trovare dei resti organici più antichi di 60.000 anni, però nel caso si dovesse trovare in qualche torbiera o in qualche sedimento molto ben conservato, se quei resti hanno più di 60.000 anni non è possibile datarlo con il carbonio 14. Quindi cosa si fa? Si va a vedere se ci sono altri isotopi nelle rocce, nei sedimenti contenenti quel fossile o quei resti, per poter datare il periodo a cui appartengono quei resti. E vediamo che ci sono altri elementi radiattivi con altri tempi di decadimento, ad esempio l'isotopo uranio 235 ha un tempo di dimezzamento di 723 milioni di anni. Già questo ci permette di studiare strade geologiche che risalgono a eoni fa. Il potassio 40 ha un tempo di decadimento di 1 miliardo e 300 milioni di anni, l'uranio 238 ha un periodo di decadimento di 4510 milioni di anni, quindi 4 miliardi e mezzo di anni e così via. Vedete che grazie a questi elementi chimici è stato possibile datare l'età della Terra, infatti sappiamo che la Terra ha 4,5 miliardi di anni perché sono state datate le rocce più antiche della crosta terrestre, o comunque sia gli isotopi radiattivi trovati nei meteoriti, quei materiali che cadono sulla Terra e che si sono formati all'inizio della storia del Sistema Solare. Quindi se datiamo gli isotopi presenti in un meteorite stiamo di fatto datando l'epoca in cui si stava formando la Terra e quindi il Sistema Solare. È proprio grazie a questi isotopi con una emivita così lunga che sappiamo quanto è vecchio il nostro Sistema Solare. Intanto una volta decaduti cosa diventano questi isotopi? Ad esempio il carbonio decadendo diventa azoto 14, l'uranio 235 diventa l'isotopo stabile del piombo 207, l'isotopo instabile radioattivo del potassio 40 diventa l'isotopo stabile dell'argon 40, l'isotopo instabile dell'uranio 238 diventa l'isotopo stabile del piombo 206 e così via per il torio che diventa il piombo 208 e per il rubidio che diventa invece lo stronzio 87. Dove possiamo trovare questi isotopi? Ho già detto che il carbonio 14 lo troviamo nei resti di materiale organico, ovvero nei corpi delle piante e degli animali che non si sono ancora decomposti, quindi ovviamente anche se non posso usarlo per datare oggetti più antichi di 60.000 anni è molto difficile trovare materiale non decomposto più antico di 60.000 anni, anche se ogni tanto ci sono dei resti vegetali o animali che riescono ad essere conservati così a lungo. Poi in realtà questi altri isotopi non li troviamo nei corpi di esseri viventi ma li troviamo nei minerali che contengono le rocce degli strati rocciosi che contengono i fossili, quindi se noi troviamo un fossile ad esempio di un dinosauro sicuramente più antico di 66 milioni di anni, che è l'epoca in cui si sono estinti, possiamo risalire all'epoca esatta in cui quel dinosauro è vissuto andando a cercare nei minerali delle rocce che contiene quello strato roccioso se ci sono isotopi radiattivi. Vediamo che l'uranio 235 lo troviamo nel zircone, nell'uranite, nella pechblenda, il potassio 40 nei minerali di muscovite, biotite, orneblenda, feldespato, potassio, quindi di fatto nelle rocce vulcaniche. Anche qui l'uranio 238 lo troviamo nello zircone, neuranite e minerali che si trovano in rocce metamorfiche e ancora torio e rubidio, sempre i minerali che si trovano in rocce vulcaniche e metamorfiche. Quindi una volta che queste rocce si formano per richistallizzazione o per solidificazione di un fuso, il timer del isotopi radiattivo viene azzerato e comincia a decadere, quindi andando a vedere quanto tempo è passato dal loro decadimento possiamo risalire a quanto tempo è passato dalla formazione di quel minerale e quindi di quella roccia. Questo è il modo con cui i geologi riescono a datare le rocce e quindi a poter avere una mappa temporale degli eventi che hanno caratterizzato la storia della Terra, sia geologica che biologica. Qui vediamo un grafico del decadimento radiattivo, in particolare del carbonio. Vi ho detto che il carbonio si dimezza ogni 5.730 anni e si esaurisce completamente dopo i 55.000 o 60.000 anni. Questo ci permette di poter datare oggetti non più antichi di 60.000 anni. Gli archeologi lo utilizzano molto per i resti umani e i resti della nostra civiltà. Quindi ad esempio i sarcofagi di legno o i mobili o le barche di legno. Quindi posso sapere quando è vissuto l'albero da questo preso quel legno semplicemente vedendo quando l'albero ha smesso di respirare, ma anche i resti umani, come ad esempio le mummie. Sappiamo l'età delle mummie perché è stato misurato il carbonio 14 presente al loro interno. Molte mummie hanno 5.000 anni perché nel loro interno c'è più o meno la metà del carbonio 14 che c'è nell'atmosfera e che quindi avrebbero dovuto avere quando erano in vita e così via. Quindi grazie a questo fenomeno fisico del decadimento degli sottopi radioattivi, gli scienziati oggi hanno una mappa temporale della Terra. Questa è la mappa temporale. Da 4 miliardi e mezzo di anni a poco più di mezzo miliardi di anni fa abbiamo i tre eoni principali adeano, archeano e proterozoico. Questa mappa è molto poco dettagliata rispetto agli ultimi 500 milioni di anni perché essendo molto antica tutte le attività geologiche e biologiche che ci sono state sono state cancellate nel tempo, quindi abbiamo una vaga idea di quello che è successo in questo periodo. Invece gli ultimi 542 milioni di anni sono stati studiati più in dettaglio e quindi qui abbiamo di tutto il farinerozoico che è appunto l'ultimo eone che si è sviluppato negli ultimi 542 milioni di anni, abbiamo una mappa temporale più dettagliata. Il farinerozoico è diviso in tre ere, paleozoico, mesozoico e cenozoico e a loro volta questi sono divisi in periodi. Ogni era e ogni periodo sono caratterizzati da eventi di estinzione, quindi eventi biologici importanti. Nel paleozoico la vita è passata dall'acqua alla terraferma, in particolare 400 milioni di anni fa la vita ha cominciato a colonizzare le terremesse. Il mesozoico è l'epoca dei dinosauri, che tutti quanti conosciamo perché siamo cresciuti con questa cultura popolare dei dinosauri nella prestoria, che va da i 250 milioni di anni fino intorno ai 66 milioni di anni fa, quando il famoso meteorite che è cascato nella penisola di Yucatan ha messo fine a questa epoca e ha creato quell'evento KT che abbiamo visto qui a Gubbio sotto forma di uno strato di argilla spesso un centimetro ricco di irridio, il materiale di origine extraterrestre. E poi infine cenozoico. Una volta che il meteorite ha fatto fuori i dinosauri, il pianeta si è letteralmente svuotato di prede e predatori e i pochi superstiti hanno riempito di nuovo le nicchie ecologiche dei vari ambienti. In particolare sono stati i mammiferi che in questi ultimi 66 milioni di anni hanno preso il posto dei dinosauri. I mammiferi già esistevano all'epoca dei dinosauri, ma erano veramente l'ultimo anello della catena alimentare. Una volta che il meteorite ha ripulito il pianeta dei dinosauri, questi hanno impiegato 10 milioni di anni per prendersi tutto quanto il pianeta e negli ultimi 50 milioni di anni i grandi carnivori, i grandi erbivori e tutte quelle nicchie ecologiche principali di vari ecosistemi che prima erano occupati da rettili, poi sono state occupate dai mammiferi, fino ad arrivare agli esseri umani, cioè a noi. Le estinzioni di massa, che come vedete sono molto regolari e contrassegnano i limiti tra un'era e l'altra, sono eventi molto comuni nella storia della vita sulla Terra. Addirittura c'è questa caratteristica per cui sembrano essere periodiche. Sembra esserci un evento di estinzione di massa ogni circa 26 milioni di anni e l'ultimo evento sembra esserci stato circa 13 milioni di anni fa, quindi siamo a metà di un periodo tra due estinzioni di massa. Infatti se questa teoria è confermata, il prossimo evento di estinzione di massa dovrebbe avvenire tra 13 milioni di anni, anche se già adesso la nostra civiltà con lo sviluppo di tecnologie e di industrie e con i cambiamenti climatici innescati dal nostro inquinamento, abbiamo già messo in moto un evento di estinzione di massa. Però un modo per spiegare il fatto di una così tale regolarità di questi cicli di estinzione è quello astronomico. Secondo alcuni scienziati, il sistema solare potrebbe essere disturbato da un oggetto molto grande che orbita lontano dal Sole che va a perturbare la nube di Oort, questa grande palla di comete che circonda il sistema solare e che in certi momenti astronomici viene disturbata dal campo gravitazionale magari di un gigante gassoso o una nana bruna o comunque sia un oggetto molto grande ma che non è possibile osservare perché non emette luce, che con la sua gravità e la sua destabilizzazione fa uscire questi oggetti dalle sue orbite e li getta verso l'interno del sistema solare. Quindi una spiegazione di una così tale regolarità delle estinzioni di massa potrebbe essere questa, però ovviamente è tutta una teoria, non possiamo sapere se è vero. Però certo questo potrebbe spiegare perché sulla Terra si registra un evento di estinzioni di massa ogni 26 milioni di anni. Durante gli ultimi 542 milioni di anni, 5 di questi eventi sono stati molto grandi, tanto da essere definiti grandi estinzioni di massa e sono 5. La prima nel Devoniano, la seconda nel Carbonifero, la terza nel Triassico, la quarta nel Giurassico e infine l'ultima nel Cretaceo, alla fine proprio del Mesozoico, quella causata da meteorite che ha fatto estinguere i dinosauri e ha consegnato il pianeta ai mammiferi. Come vedete queste estensioni sono come dei filtri che fanno passare alcune specie e ne fermano altre. A volte questi filtri fermano le specie dominanti del pianeta e permettono a quelle minori di poter prendere loro posto. E come ho detto prima, proprio il caso dei dinosauri, hanno dominato il pianeta per tutto il Mesozoico, alla fine del Mesozoico la quinta estensione di massa li ha fatti fuori e i mammiferi, che all'epoca erano un piccolo gruppo e si trovavano ai margini delle catene alimentari, hanno preso il posto dei dinosauri e hanno occupato tutte le nicchie ecologiche del pianeta che prima erano occupate dei dinosauri. Questo fenomeno si chiama evoluzione radiativa, ovvero quando a causa di una grande estensione, un grande gruppo di specie ne va a sostituire un altro, andando a occupare le stesse nicchie ecologiche, ovvero gli stessi ruoli biologici, predatori, prede, consumatori e così via. Nonostante la vita sulla Terra esista da quasi 4 miliardi di anni, quella complessa che conosciamo noi è comparsa poco più di mezzo miliardo di anni fa. Infatti per la maggior parte del tempo la vita sulla Terra è stata rappresentata da semplici organismi unicellulari o per lo più almeno un miliardo e cento milioni di anni fa anche qualcosa di più semplice di tipo pluricellulare, ma per oltre il 70% se non di più di tutta la storia della Terra la vita è sempre stata qualcosa di molto semplice. 542 o 41 milioni di anni fa comincia a cambiare tutto per sempre. Una grande estinzione di massa di cui ancora non si conoscono le cause mette fine al leone del proterozoico e comincia così il fanerozoico dove cominciano a comparire organismi sempre più complessi. C'è stato un primo tentativo dall'evoluzione di riempire il pianeta con organismi multicellulari più complessi, vengono definiti fauna di Ediacara perché i primi esemplari fossiliferi sono stati scoperti per la prima volta in una rimota zona australiana che ha quel nome, però di fatto vivevano su tutto il pianeta, che non ha avuto un gran successo, sono rimasti sul pianeta per almeno una ventina di milioni di anni e poi una volta sprede anche loro, avviene la grande esplosione del Cambriano. Che cos'è questo evento? Un evento avvenuto intorno ai 520 milioni di anni fa appunto nel Cambriano in cui di colpo, di colpo da punto di vista geologico, cioè in pochi milioni di anni il pianeta si è popolato di una grande quantità di organismi viventi molto complessi pluricellulari di cui molti dei loro discendenti oggi costituiscono i gruppi principali del pianeta. Compaiono fenomeni come la predazione, gruppi come gli artropodi, da cui oggi derivano i granchi, gli insetti e tutti gli animali che hanno il corpo costruito in sezioni e gruppi con un esoscheletro, ovvero con una struttura di sostentamento esterna al corpo che fa anche da struttura difensiva. Quindi possiamo dire che il proterozoico finisce con una grande estensione di massa e comincia con la prima era del fanerozoico, il Cambriano. In questa era abbiamo la grande esplosione di vita che popola il pianeta con una grande varietà di creature multicellulari. Compaiono i trilobiti che sono rimasti nell'immaginario comune come l'organismo marino preistorico per eccellenza. Poi cosa è successo? Durante il mesozoico, che sarebbe l'epoca di mezzo del farenozoico, abbiamo la comparsa dei primi rettili, 220 milioni di anni fa, con la comparsa anche di alcuni piccoli mammiferi, ma ancora era poca roba, e ci troviamo nell'epoca in cui c'era il Pangea, l'ultimo supercontinente, perché vedremo che in realtà di supercontinenti ce ne sono stati tantissimi in passato, ma questo è l'ultimo che si è formato. Il mesozoico comincia con la comparsa dei primi dinosauri e la diffusione delle conifere. I continenti sono uniti in un unico supercontinente chiamato Pangea, mentre l'unico oceano chiamato Pantalassa. Pangea significa tutta terra e Pantalassa significa tutto mare. In questo periodo la Terra ha una temperatura più alta dell'attuale, non ci sono calotte di ghiaccio poli, anche se ci sono prove geologiche che in alcuni momenti una grande calotta di ghiaccio abbia occupato la parte sud del Pangea, ma complessivamente in tutto il mesozoico la temperatura è sempre stata più alta dell'attuale. Il mare è più alto anche di 100 metri, quindi alcune zone che oggi sono emerse all'epoca costituivano bacini marini poco profondi. Poi 145 milioni anni fa il Pangea comincia a frantumarsi e abbiamo due grandi blocchi, il Laurasia a nord e il Goduana a sud. Il Laurasia comprende in Nord America, l'Europa e l'Asia, mentre il Goduana a sud comprende Sud America, l'Africa, l'India, l'Australia e l'Antartide. Questo avviene nel Giurassico. Poi 101 milioni di anni fa ci troviamo nel bel mezzo del Credascio che è l'epoca di massima diffusione dei dinosauri, il pianeta è sempre molto più caduto dell'attuale, quindi non abbiamo crimini vali, non ci sono calotte di ghiaccio che ricoprono le stesse zone del pianeta. Si apre l'Oceano Atlantico anche tra quello che in futuro saranno il Sud America e l'Africa e si diffondono le piante con i fiori, le angiosperme, che poi quando cadrà il meteorite e causerà l'estinzione di massa che ha fatto fuori i dinosauri avranno modo di diffondersi tutto il pianeta e di diventare il gruppo vegetale dominante su tutti i continenti. In questa epoca abbiamo alti livelli di ossigeno e troviamo il fenomeno del gigantismo tra i dinosauri, quindi troviamo grandi animali dinosauri come i mosasauri e i titanosauri. Un meteorite largo 10 chilometri metterà fine a questa epoca. Infatti 66 milioni di anni fa, che è proprio la fine di questa epoca, questo meteorite colpisce la penisola dello Yucatan. Lo sappiamo perché è stato scoperto il catere la cui datazione geologica conferma proprio questa data e corrisponde in tutti gli strati geologici del pianeta a uno strato di sedimenti ricco di irridio. Irridio è un elemento metallico che si trova nei meteoriti e che ci dimostra come l'impatto di questo meteorite lo abbia vaporizzato insieme a parte della crosta nell'atmosfera e che poi questa grande nube sollevata dall'impatto ha avvolto il pianeta, causato un inverno nucleare che ha contribuito fortemente a generare la grande estensioni massa del KT, Cretaceo terziario, e infine sedimentato in tutti i bacini di sedimentazione del pianeta, quindi anche in Italia perché all'epoca era un mare poco profondo, questa nube contenente irridio in tutte le formazioni geologiche che ci testimoniano quel momento geologico. Quindi questa è la più grande ed ultima delle 5 estensioni massa che ha messo fine all'epoca dei dinosauri. Dopo questo evento, che è avvenuto qui in Messico, nella penisola dello Yucatan, abbiamo la grande evoluzione radiativa dei mammiferi. Una volta che il meteorite ha messo fine all'epoca dei dinosauri, durata per oltre 140 milioni di anni, i mammiferi sopravvissuti si evolvono occupando tutte le nicchie ecologiche del pianeta, quindi i predatori, le prede, i raccoglitori, i necrofaci, tutto quello che prima era occupato dei dinosauri viene poi con l'evoluzione occupato dai mammiferi, finché alla fine arriviamo anche noi. E tutto questo grazie all'impatto del meteorite che è stato l'ultimo grande filtro con cui la vita sul pianeta si è dovuta confrontare. Da questo filtro i mammiferi ne escono vincitori e alla fine di questa grande epoca in cui il pianeta si è trasformato dal pianeta dei dinosauri a quello dei mammiferi siamo arrivati noi. Infatti gli esseri umani sono uno degli ultimi gruppi di mammiferi che è comparso intorno ai 5 milioni di anni fa e negli ultimi anni si è evoluto fino a diventare quello che conosciamo oggi. Infatti l'attuale gruppo dominante, cioè noi, l'attuale Homo sapiens sapiens è compasso circa 200.000 anni fa. Quindi siamo un evento molto recente di questa evoluzione radiativa dei mammiferi. Molto probabilmente se non ci fosse mai stato questo meteorite e questo impatto, i mammiferi non avrebbero avuto il successo che hanno avuto e probabilmente non saremmo usciti fuori nemmeno anche noi. Quindi alla lunga noi siamo un prodotto di una grande estinzione di massa causata da meteorite oltre 66 milioni di anni fa. Cosa è successo negli ultimi 66 milioni di anni? Questo era il mondo all'inizio dell'epoca dei mammiferi. L'era geologica si chiama Cenozoico, che sono di fatto proprio gli ultimi 66 milioni di anni, il pianeta ha cominciato negli ultimi 5-6 milioni di anni a subire delle fasi di aeree glaciali, ovvero a causa della disposizione dei continenti, della circolazione oceanica e della conformazione dell'orbita che modifica regolarmente la sua forma a causa delle interazioni gravitazionali con gli altri pianeti del Sistema Solare, la Terra subisce aeree glaciali regolari della durata media di 100.000 anni ogni fase intergraciali più breve. E questa serie di aeree glaciali ha condizionato fortemente l'evoluzione della vita negli ultimi milioni di anni. I grandi mammiferi che popolavano i continenti hanno subito anche loro dei fenomeni di estensione minore a causa di queste aeree glaciali, altri mammiferi come noi invece ne abbiamo tratto un vantaggio. Per due motivi, intanto perché queste aeree glaciali mettevano in difficoltà i nostri predatori e quindi in un certo senso alcune aeree glaciali hanno contribuito a ridurre la popolazione o a fare estinguere alcune specie che erano per noi dei predatori. Un altro motivo è perché ogni volta che c'era un'era glaciale l'acqua si accumulava sotto forma di ghiaccio nelle regioni polari e il livello del mare scendeva, tanto da permettere ai nostri antenati di poter attraversare brevi tratti di mare che si prosciugavano. Infatti le Americhe, l'Indonesia, l'Australia sono state colonizzate durante queste fasi di aeree glaciali in cui il livello del mare scendeva anche di 100-150 metri e permetteva a zone prima occupate dal mare di diventare ponti di terra facilmente percorribili. Lo stretto di Bering, per esempio, che sta tra la Russia e l'Alaska è emerso più volte in passato e ad un certo punto ha permesso a nostri antenati di colonizzare le Americhe. La stessa Indonesia durante questi periodi diventava una gigantesca penisola e permetteva ai nostri antenati di poter raggiungere anche l'Australia. Quindi noi esseri umani siamo stati una di quelle specie che hanno tratto un vantaggio da queste aeree glaciali, ma altre specie invece, come ad esempio il mammut, ne hanno subito le conseguenze. Infatti il mammut è uno dei grandi gruppi di mammiferi che non è riuscito a sopravvivere a queste aeree glaciali. Ma tante specie animali non ce l'hanno fatta, tant'è vero che il continente che ha subito meno perdite dal punto di vista di grandi mammiferi è stata proprio l'Africa, che è il continente che, trovandosi sulla fascia equatoriale tropicale, ha subito di meno le conseguenze delle aeree glaciali rispetto agli altri continenti. La Terra, quindi, è un pianeta molto dinamico. Non sono solamente queste condizioni climatiche variabili a modificare e condizionare evoluzione della vita, ma anche la natura geologica dei continenti ha avuto un ruolo importantissimo nell'evoluzione delle specie. L'evoluzione della superficie terrestre geografica e climatica è uno dei motori che ha spinto l'evoluzione a generare una grande varietà di creature che nelle aeree hanno popolato il pianeta. Infatti l'apertura di un oceano o il sollevamento di una cadena montuosa sono spesso stati importanti ostacoli che hanno separato le popolazioni di animali e piante isolandole genericamente nel tempo. La migrazione dei continenti lungo fasce climatiche diverse hanno mantenuto costantemente quella pressione evolutiva che solo i continui cambiamenti ambientali possono avere sulle specie. Infatti, come vedremo a breve, una delle conclusioni o scoperte a cui Darwin è arrivato nella sua formulazione della selezione naturale è che l'evoluzione non ha uno scopo vero e proprio, non c'è un punto finale a cui ogni specie tende a raggiungere nel suo percorso evolutivo, ma è una modificazione e continuo costante adattamento all'ambiente. Se l'ambiente cambia in continuazione, le specie sono continuamente pressate a dover modificare se stesse e adattarsi all'ambiente. Quindi la tettonica a placche e i climatici sono state delle pressioni, delle forze costanti naturali che spingevano le specie a modificarsi continuamente per adattarsi sempre a nuovi ambienti e nuove condizioni ambientali. Perché sulla Terra c'è la tettonica a placche? Perché la Terra è un pianeta geologicamente molto attivo. Al suo interno abbiamo un nucleo interno di ferro solido e un nucleo esterno di ferro liquido che sono molto caldi e che cedono il loro calore alla base del mantello, le cui rocce riscaldandosi si espandono, diventano più leggeri rispetto a quelli circostanti e per risostasia vengono spinte verso l'alto, dove si raffreddano e riadensandosi riscendono verso il basso. Questo movimento continuo che vengono chiamati appunto moti convettivi spingono le placche tettoniche in cui è suddivisa la crosta terrestre e mettono in moto tutto quel meccanismo che solleva catene montuose, apre nuovi oceani e sposta interi continenti da una parte all'alta del pianeta. Ogni tanto capitava che questi continenti si unissero a formare un unico grande continente. È successo tante volte sulla Terra. Nel tempo la crosta continentale si è cresciuta, quindi i primi continenti erano molto più piccoli rispetto all'attuale. Ma sulla Terra ci sono stati tanti supercontinenti. Però la vita complessa, in passa circa un miliardo e mezzo di anni fa, ha vissuto almeno tre supercontinenti. Il primo è stato il Rodinia, poco più di un miliardo di anni fa, un miliardo e cento milioni di anni fa, e questa era la sua conformazione. Poi abbiamo avuto il Pannotia, che ha avuto il suo culmine intorno ai 600 milioni di anni fa. E infine l'ultimo supercontinente è stato il Pangea, intorno ai 300 milioni di anni fa, ma come vedremo ha cominciato a frantumarsi già a 200 milioni di anni fa. Quindi ogni volta che c'è un supercontinente, l'ambiente terrestre mette in crisi la biosfera, perché il pianeta si fa più difficile. Più che altro per motivi climatici. Perché? Perché una vasta area continentale genera delle enormi zone lontane dagli oceani, che quindi non possono subire il beneficio climatico degli oceani, con enormi e forti escursioni termiche notturne e diurne, invernali ed estive. Quindi già questo rende quell'ambiente molto inospitale. Inoltre queste zone così lontane dai continenti potevano anche essere degli altopiani, quindi ad alta quota. Questo permetteva a questi supercontinenti di avere delle vaste aree interne molto inospitali per la vita complessa. E quindi in quelle epoche la vita era molto più facile lungo le coste e molto più arda all'interno di queste supermassi continentali. Un altro motivo era che quando tutti i continenti sono uniti, la capienza degli oceani aumenta, quindi di fatto si abbassa il livello del mare. Normalmente i continenti occupano più spazio quando sono separati, mentre occupano meno spazio e la capacità degli oceani aumenta quando invece sono tutti quanti uniti. Quindi ogni volta che c'è un supercontinente, i livelli del mare si abbassano e abbiamo che i normali altopiani si trovavano poi di fatto a quote ancora più elevate, perché l'atmosfera si abbassava insieme al livello degli oceani. Poi dopo il Pangea c'è stata una frantumazione in due grandi blocchi, il Laurasia a nord e il Godouan a sud, l'abbiamo già visto nella stella precedente, e infine oggi abbiamo questa distribuzione in cinque continenti, che è quella che conosciamo oggi. Già vediamo oggi che all'interno dei continenti molt estesi, lontano dalle coste, l'ambiente si fa più difficile, prevalentemente arido e con grandi escursioni termiche sia giornalieri che stagionali. Questa era la mappa del Pangea 200 milioni di anni fa. Vediamo come era distribuita. Avevamo Nord America, Europa e Asia a nord e poi nel misturo sud c'era Sud America, l'Africa, l'India, l'Antartide e l'Australia a sud. Questo grande golfo era chiamato Tetide e dietro avevamo la grande Pantalassa, che significava grande oceano. Qui vediamo in questa sequenza le varie fasi che l'hanno portato alla frantumazione. Questa era la conformazione dei continenti nel momento in cui il meteorite, che messe fine all'era dei dinosauri, ha colpito il pianeta, qui lungo la penisola dello Yucatan. E durante il cenozoico i continenti poi si sono disposti nella loro attuale posizione. E questa attuale posizione che ha condizionato la circolazione oceanica a tal modo ad avere una maggiore instabilità climatica e a far centrare nel periodo delle ere glaciali. Infatti sono alcuni milioni di anni che la Terra subisce regolari ere glaciali, proprio perché l'attuale posizione dei continenti e circolazione oceanica subisce in modo maggiore le variazioni orbitali del pianeta che avvengono nell'arco di alcune decine di migliaia di anni. Quindi vedete come dall'ultimo supercontinente del Pangea il mondo è diventato quello che conosciamo oggi. La deriva dei continenti è una scoperta abbastanza recente. Infatti prima gli scienziati non si immaginavano che i continenti si potessero muovere. All'inizio del XX secolo questo signore Wagner osservò con curiosità il fatto che la costa del Sud America e dell'Africa combaciassero perfettamente e pensò che i due continenti in un lontano passato potessero essere stati uniti. Ovviamente nessuno dei suoi contemporanei lo prese sul serio, fu anche ridicolizzato dalla comunità scientifica perché nessuno riusciva a immaginare come dei continenti potessero muoversi. Però poi ci furono ulteriori studi sulla geologia e su formazioni fossilifere su dei continenti e si vide che in realtà c'erano delle continuità, delle congruenze tra non solo Sud America ed Africa ma anche Antartide, India e Australia dove si trovavano su tutti questi continenti le stesse rocce e le stesse formazioni rocciose. Come se un tempo tutti questi continenti fossero Stati Uniti? Infatti furono trovati le stesse formazioni rocciose con gli stessi fossi che quindi testimoniavano lo stesso ambiente che finivano in un continente e proseguivano sull'altro. Oggi in mezzo a queste due formazioni rocciose ci sono estesi oceani ma tutto andava a indicare che una volta questi estesi oceani non c'erano. Come potevano questi continenti spostarsi lungo la crosta terrestre e proprio intorno agli anni 50-60 con una delle tecnologie sviluppate durante la seconda guerra mondiale, cioè il radar, furono mappati i fondali oceanici e fu scoperta la struttura della dorsale mediooceanica. Quindi la teoria della teoria dei continenti trovò finalmente un modo per potersi esprimere e gli scienziati ricostruirono poi anche con altri dati il moto dei continenti nel tempo. Grazie al radar che è un'invenzione della seconda guerra mondiale furono mappati i fondali oceanici e fu osservata per la prima volta in gran dettaglio la dorsale mediooceanica che è questa grande struttura tettonica nascosta da sempre all'umanità perché è sott'acqua e emerge solamente in Islanda e in un punto delle Azzorre dove di fatto si riesce a comprendere il meccanismo con cui le placche tettoniche si spostano perché infatti è proprio lungo questa dorsale mediooceanica che fuoriesce il magma dalla stenosfera e sposta le placche tettoniche. Questa dorsale mediooceanica è la struttura tettonica più grande del pianeta, è lunga almeno 60.000 chilometri su un pianeta che ha una circonferenza di 40.000 chilometri e anche se non emerge comunque sia si solleva dal fondale oceanico di almeno 2 metri. Normalmente il fondale oceanico della Terra arriva quasi a 4 chilometri, sono 3.800 metri e questa dorsale mediooceanica si solleva ad una quota di almeno 2.000 metri sopra il piano dei fondali oceanici quindi pur rimanendo sommersa comunque rappresenta una catena montuosa molto alta e molto estesa su tutto quanto il pianeta. Vi ho detto prima che quando i contenenti si uniscono in un unico supercontinente gli oceani diventano più capienti anche perché di fatto si riducono le dorsali mediooceaniche e il volume che queste occupano va a diminuire e quindi la conseguenza è che si abbassa il livello degli oceani. La formazione di supercontinenti possono essere un fenomeno che da origine a un evento di estinzione di massa perché rende il clima del pianeta meno ospitale alla vita. Andiamo avanti e parliamo adesso di Darwin e la teoria dell'evoluzione. La teoria dell'evoluzione di Darwin spiega gli adattamenti degli esseri viventi e la loro varietà ma lui non fu il primo. Ci furono altre persone prima di lui che suggerirono argomentazioni simili. Il primo di cui si aveva memoria è il filosofo greco Anassimandro nel VI secolo a.C. Lui sostiene che gli animali e gli uomini si erano originati da acque e terre riscaldate escludendo qualsiasi forma di intervento divino. Quindi questo signore nell'antica Grecia suppose che la natura potesse generare forme di vita senza che ci sia un intervento divino quindi qualcosa di pseudo scientifico. Poi arrivarono altri due filosofi greci Democrito ed Epicurio che sono vissuti nel V e nel IV secolo a.C. e hanno escluso completamente l'intervento divino o soprannaturale per l'esistenza degli esseri viventi. Quindi già all'epoca le società più evolute provavano a spiegare ciò che vedevano senza un intervento divino provando a dare una spiegazione più o meno logica. Oggi diremmo scientifica anche se all'epoca non si poteva definire scienza perché non c'era ancora il metodo scientifico. Secondo questi signori tutto quello che vedevano derivava dall'aggregazione cassuale di atomi cioè particelle originali indivisibili quindi ovviamente qui stiamo parlando di un mondo pre-medioevale ma già con discorsi molto simili all'attuale. Poi arriva il romano Tito Lucrezio che nel I secolo a.C. ha anche proposto un concetto pre-evoluzionistico sostenendo che gli organismi cambiassero e migliorassero nel tempo. Qui veramente prima del medioevo la componente corta dell'umanità già aveva raggiunto livelli di conoscenza che sono molto simili a quelli rinascimentali. Poi arriva questo signore Aristotele che sostituisce con il suo pensiero scritto in Historia Animalim le teorie dei suoi predecessori istituendo addirittura una gerarchia delle specie mettendo gli esseri umani in cima a questa graduatoria ma soprattutto negando la possibilità di un cambiamento nel tempo. Questo è importante perché è importante perché all'epoca la Chiesa e le varie religioni organizzate stavano prendendo potere anche politico e a loro faceva comodo dar credito a qualcuno che poteva dare una spiegazione pseudoscientifica con così a giustificare le loro ideologie basate sulla Bibbia. Infatti Aristotele dice qualcosa di molto simile alla creazione dove c'è un sistema di esseri viventi che non cambia mai nel tempo quindi creato da qualcuno il primo giorno del mondo e poi rimasto sempre uguale dove l'uomo è in cima a questa graduatoria della vita quindi ovviamente il suo pensiero era molto utile al potere politico e religioso dell'epoca e questo cancellò o in qualche modo permise a la cultura dell'epoca di dimenticare chi in passato ha provato a spiegare l'esistenza e la vita stessa senza un intervento divino quindi proprio la sua diffusione è stata promossa poi anche dal potere politico dell'epoca poi infatti è arrivato il medioevo e c'è stato poi un grande periodo cui tante conoscenze si sono un po affermate. Poi arriva il rinascimento e i tempi cominciano a cambiare la cultura scientifica comincia ad avere una sua emancipazione rispetto al potere politico e religioso e abbiamo questo signore Georges Louis Buffon che vissuto tra il 1707 e 1788 scrisse qualcosa di molto simile a ciò che disse Darwin ovvero propose una visione della natura in trasformazione nella sua pubblicazione istorie naturelle in cui calcolò che la terra doveva avere almeno 75 mila anni e non i 6.000 proposti dalle letture della bibbia perché alcuni tra virgolette scienziati dell'epoca provarono a calcolare l'età della terra studiando la bibbia e secondo loro la terra aveva più o meno 6.000 anni ci sono prove storiche di civiltà molto più antiche di 6.000 anni però all'epoca si usava la bibbia come un testo di riferimento storico affidabile per fare queste ricerche questo signore invece propose un'età più grande di 75 mila anni perché secondo lui c'era bisogno di più tempo affinché la vita arrivasse a quello che vediamo oggi infatti lui spiegò l'importanza della dimensione temporale e diffusione dei fossili perché ovviamente già all'epoca si osservavano fossili e notò la somiglianza di molte specie diverse ipotizzando anche parentelle tra scimmie esseri umani quindi qui siamo veramente prima di Darwin però già si notò la similianza di alcune specie per cui anche gli esseri umani e qui ho messo alcune immagini di questa pubblicazione poi ancora siamo sempre nel 1700 tra 1713 84 arriva denis di deroth che rifiutò l'idea di una natura regolata dal caso ma introdusse il concetto di selezione naturale sostituendo che gli organismi meno adatti non sopravvivevano alle sfide poste dall'ambiente quindi qui vediamo come siamo molti anni prima di darwin ma già molti dei suoi concetti erano stati anticipati da altri intellettuali arrivò il nonno di darwin che si chiamava erasmus darwin viste tra 1731 e 1802 e introdusse idee evoluzionistiche sostenendo che fosse l'ambiente la causa delle modifiche morfologiche degli esseri viventi quindi qui capiamo che già darwin aveva un'ampia bibliografia su cui ha potuto studiare e poteva formare le sue idee sviluppate nella sua teoria sull'evoluzione ancora james hatton vissuto tra 1726 e 1797 formulò uno dei concetti base di geologia che si studia ancora oggi all'università osservando le sequenze statigrafiche propose il principio dell'attualismo ovvero che le forze che hanno modellato la terra in passato sono le stesse che la modellano ancora oggi il gran canyon che è una grande ferita nella terra è stata scavata dal fiume colorato e ancora oggi il fiume colorato sta scavando ancora oggi ci sono sulla terra fiumi che stanno scavando dei canyon che in futuro saranno i grandi canyon quindi quello che vediamo oggi montagne che delle montuose oceani sono generati da fenomeni che sono attivi ancora oggi solo che sono talmente lenti che non possiamo apprezzare il loro lavoro in tempo reale come hanno fatto questi scienziati a formulare tutte quante queste teorie ovviamente non è che stavano sempre chiusi in biblioteca giravano andavano nei campi cercavano delle prove e quali sono le prove principali che uno scienziato che studia la vita può trovare soprattutto i fossili quali indizi possono fornire i fossili a questa teoria beh i fossili sono tracce o resti di antichi esseri viventi vissuti in passato spesso mostrano specie oggi estinte del tutto alcuni naturalisti li interpretavano come la prova del diluvio universale citato sulla bibbia perché anche qui gli scienziati dell'epoca cercavano nella bibbia risposte di quello che vedevano nel campo e secondo loro i fossili erano tutte quelle forme di vita che si sono estinte sono scompasse durante il grande diluvio universale addirittura prima dell'evoluzione c'è chi pensava che i fossili fossero delle forme di vita abortite perché secondo le loro teorie la vita nascesse spontaneamente così dalla terra e i fossili fossero tutte quelle forme di vita abortite che non sono riuscite a nascere ma che hanno cominciato il processo di formazione nella terra e poi si sono arrestate ovviamente sono tante le spiegazioni che ci sono state nel tempo i fossili quindi sarebbero resti di vittime di questo evento catastrofico appunto la grande alluvione e rafforzando la teoria del catastrofismo ovvero che tutto ciò che vediamo sulla terra catene montuose oceani ma anche animali sono risultato di singoli eventi catastrofici che hanno colpito al piede a livello globale ovviamente non è sempre così o non è mai così al contrario invece arrivò il signor jean baptiste lamarck vissuto tra 1744 e 1829 lui invece disse che i fossili non sono la prova del catastrofismo ovvero di eventi catastrofici che hanno fatto strage sulla terra ma che sono la prova che mostra come gli esseri eventi cambino nel tempo perché si possono dare fossili di epoche diverse dove ci sono forme simili ma un po modificate quindi che ci mostra il modo in cui le specie viventi si modificano nel tempo ma in particolare lamarck riteneva a torto che i meccanismi di trasformazione degli organismi fossero l'uso e il disuso delle sue parti e l'ereditarietà dei caratteri acquisiti quindi secondo lui usando o non usando le diverse parti del corpo un individuo poteva cambiare le caratteristiche e quindi trasmettere questi cambiamenti alla prole e infatti lui rimase famoso per l'esempio delle giraffe che nell'intento di sforzarsi per raggiungere le foglie più alte avrebbero durante la loro vita allungato il collo oggi sappiamo che il meccanismo non è questo e infatti arriverà poi darwin a introdurre il concetto di selezione naturale ovvero e sarà l'ambiente a selezionare solo quegli individui che hanno le caratteristiche idonee a sopravvivere trasmettendole alle generazioni successive non come dice la marche che gli individui durante la loro vita sviluppano caratteristiche che poi trasmettono alle generazioni successive le caratteristiche compaiono lentamente di generazione in generazione e come vedremo poi dirà darwin sarà l'ambiente a selezionare solo quelli idoni a sopravvivere e quindi trasmetterle alla prole poi ancora i dati geologici furono molto rilevanti per poter spiegare rivoluzione e il signor charles lille vissuto tra 1797 e 1875 nel suo libro di principi di geologia si opponeva al catastrofismo ma si schiererà a favore del gradualismo o dell'attualismo di atto dimostrando che la terra fosse molto più vecchia di quello che si poteva supporre dalla bibbia o di qualsiasi altro scienziato che ha provato a sfidare la bibbia e che le specie soprattutto si stanno modificando ancora oggi sotto forma delle stesse forze che la modificate solamente che lo fanno talmente lentamente che noi non riusciamo a percepire questi cambiamenti che cos'è il gradualismo e il catastrofismo secondo queste scuole di pensiero che poi di fatto vedremo sono parzialmente vere entrambi tutto quello che vediamo sulla terra catene montuose valli pianure foreste si sono formate in conseguenza o di grandi eventi catastrofici unici enormi giganteschi tremoti enormi giganteschi vulcaniche enormi giganteschi alluvioni oppure da eventi che si sviluppano lentamente nel tempo e che poi in milioni di anni danno luogo a quello che vediamo ovviamente oggi diamo per scontato queste conoscenze ma all'epoca no anche perché ripeto si pensava che la terra fosse molto più giovane cioè gli scienziati credevano che la terra avesse pochi migliaia di anni di età e spiegare come un qualcosa come il grand canyon fosse uscito fuori nell'arco dell'erosione di pochi migliaia di anni era difficile da spiegare con il gradualismo oggi sappiamo che la terra a miliardi di anni e che il grand canyon si è formato in milioni di anni quindi ovviamente oggi è più facile spiegare ciò che vediamo però all'epoca non più ma è pur vero che così come esistono fenomeni che formano catene montuose e valli in milioni di anni ci sono anche fenomeni che formano enormi forme geologiche anche in pochi istanti quindi esiste anche il catastrofismo qui vediamo a sinistra una grande caldera generata da un gigantesco eruzione vulcanica che ovviamente è avvenuta in pochi secondi qui accanto invece abbiamo il meteor crater in arizona che si è formato 50 mila anni fa da un meteorite che è cascato sulla terra e ha creato questo buco largo 1200 metri quindi è ovvio che sia il gradualismo che il catastrofismo sono due teorie abbastanza valide se prese in modo corretto ci sono enormi morfologie che sulla terra impiegano milioni di anni per formarsi come le catene montuose ci sono enormi morfologie che si formano in pochi istanti grazie a gigantesche eruzioni vulcaniche o impatti di meteoriti quindi la terra ha un paesaggio vario ed è risultato di eventi estremi lenti e veloci quindi oggi possiamo dire definitivamente chiusa la diatriba tra queste due linee di pensiero perché sono entrambi parzialmente vere e finalmente arriviamo a parlare di charles darwin chi è questo signore perché è diventato così famoso questo signore nato nel 1809 in inghilterra ebbe la fortuna di imbarcarsi su una nave scientifica il beagle che lo portò a 22 anni a fare il giro del mondo e poter così raccogliere molte informazioni e molti dati che poi utilizzò per elaborare la sua teoria dell'evoluzione che ancora oggi viene studiata nelle scuole sicuramente darwin avrà avuto modo di studiare i trattati scientifici e le idee scritte da tutti gli intellettuali che sono venuti prima di lui e che abbiamo già analizzato nelle slide precedenti però lui è rimasto nella storia come il fondatore della teoria dell'evoluzione vera e propria infatti poi anni dopo questo viaggio lui pubblicò il suo trattato principale origine delle specie che ancora oggi viene studiato ovviamente rielaborato in chiave moderna e la sua teoria insegnata nelle scuole perché è quella che ha avuto più conferme nelle ricerche scientifiche successive questo signore parte nel 1831 a 22 anni dall inghilterra e visita diversi continenti sud america l'africa l'australia ma in particolare arrivò alle galapagos perché questo arcipelago di isole è rimasto così importante nella storia e soprattutto nei suoi trattati perché le galapagos erano di fatto un laboratorio biologico erano queste isole isolate in mezzo all'oceano che di fatto per la loro natura amplificavano e acceleravano le forze dell'evoluzione infatti ogni isola presentava una fauna simile ma leggermente modificata per adattarsi alla specifica isola in particolare infatti queste isole erano abbastanza vicine tra loro e hanno permesso alle vari specie di tartarughe e uccelli di diffondersi in tutto l'arcipelago ma l'isolamento geografico perché appunto erano isole ha permesso di creare delle sottopopolazioni di queste specie che poi nel tempo si sono adattate in veri e propri adattamenti quindi ogni isola aveva lo specifico uccello con il becco adattato per i semi e i frutti di quella specifica isola o addirittura le tartarughe avevano un guscio diverso in base all'isola a cui appartenevano perché in così poco spazio darwin trovò una così grande varietà biologica perché uno dei principi che poi vedremo essere motore della selezione naturale qui in questo arcipelago era amplificato ovvero il fatto dell'isolamento geografico le singole isole isolavano popolazioni di individui che poi col tempo accoppiandosi tra loro senza mescolarsi con altri creavano caratteristiche uniche per ogni isola questi e tanti altri dati raccolti in altri continenti come fossili campioni vegetali e animali tornando nel suo paese col tempo formulò questa teoria lui scrisse questo trattato l'origine delle specie all'inizio non lo pubblicò perché ebbe paura di come il mondo scientifico potesse accettare questa sua idea anche perché lui di fatto stava andando contro l'idea religiosa secondo cui all'epoca molto più diffusa rispetto a oggi la natura la terra non eda fossero stati creati da dio e quindi con la sua teoria di evoluzione andava a dire qualcosa che era contro l'ideologia religiosa dell'epoca che all'epoca appunto era molto forte però con il tempo vide che altri accademici altri scienziati stavano raggiungendo le sue stesse conclusioni e allora per evitare che qualcun altro possa in qualche modo rubargli la scoperta lui alla fine pubblicò nel 1859 questo trattato ovviamente l'opinione pubblica rimasse un po sconvolta dalle sue idee e ci furono anche alcune realtà religiose politiche o semplicemente un po più polemiche che in qualche modo ridicolizzarono la sua idea per cui gli esseri umani potessero discendere in qualche modo dalle scimmie però di fatto poi questo trattato è rimasto nella cultura scientifica ed oggi è studiato tantissimo quali sono le basi su cui si tratta questo trattato in particolare lui parla della selezione naturale infatti il vero motore dell'evoluzione è la selezione naturale la capacità che hanno le forme di vita di adattarsi all'ambiente questi riescono a trasmettere le caratteristiche genetiche vincente alla generazione successiva semplicemente sopravvivendo all'infanzia e arrivando all'età riproduttiva con successo qui vediamo il famoso esempio della giraffa per cui oggi le giraffe hanno il collo lungo perché sopravvivono quelle che riuscivano ad arrivare a mangiare le foglie che crescevano nei rami più alti degli altri mentre altre non arrivandoci morivano di fame questa è una delle tante teorie che è stata poi proposta per spiegare l'anatomia così anomala delle giraffe poi ancora la selezione ambientale non si basa solamente con la difficoltà di sopravvivere alle condizioni climatiche e alla ricerca di cibo ma anche alla competizione con le altre specie con cui viene condiviso l'ambiente per accedere alle risorse indispensabili lo vediamo oggi quando introduciamo specie aliene o esotiche in continenti e mari che non le hanno mai viste ad esempio attraverso il cane di zues molte specie animali vegetali del mar rosso si sono entrate nel mediterraneo e sono di fatto in competizione con le risorse di cibo del mediterraneo alcuni coralli delle specie del mar rosso stanno sostituendo quelle del mediterraneo quindi c'è una competizione per esempio quando gli inglesi portarono conigli e gatti in australia questi entrarono in competizione con gli erbivori e carnivori di quell'ambiente ovviamente creando grandi scombustolenti ambientali e non solo sono tanti gli esempi che si possono fare poi ancora gli eventi catastrofici locali o globali come una mega eruzione vulcanica o un impatto meteorite possono mettere in crisi alcune specie e favorirne delle altre la nostra stessa specie gli esseri umani è stata una di quelle specie che ha avuto un vantaggio dall'eree glaciali per due motivi perché l'eree glaciali hanno messo in crisi i nostri predatori in molti continenti e perché ogni volta che il mare si abbassava durante l'eree glaciali permetteva ai nostri antenati di poter passare da un continente all'altro perché alcune zone normalmente sommesse emergevano trasformandosi in ponti di terra è così che sono state colonizzate le americhe grazie al ponte di terra che si è formato tra l'alaska e la russia durante le aree glaciali nello stretto di bering e non solo oppure quando le isole dell'innoeste si univano una grande super penisola permettendo a nostri antenati di raggiungere anche l'australia quindi in alcuni casi gli sconfiggenti globali climatici e non solo possono favorire alcune specie in altri casi possono mettere in crisi altre specie e questo è una forte pressione della selezione naturale che poi di fatto aiuta l'evoluzione ancora anche le nostre attività quelle umane hanno un effetto sull'ecosistema l'aumento della popolazione che ovviamente questo secolo è stato enorme ma poi anche l'inquinamento dell'ambiente vanno a modificare i rapporti delle specie la pesca eccessiva la caccia agli animali più delicati l'immissione nell'ambiente di tossine e veleni possono di fatto abbattere popolazioni di specie animali vegetali che sono fondamentali per mantenere l'equilibrio degli ecosistemi e anche questo a suo modo può essere una selezione naturale in particolare si parla di selezione artificiale che è stata molto sfruttata dagli esseri umani durante tutta la loro storia infatti con lo sviluppo dell'agricoltura e degli allevamenti gli esseri umani hanno interrotto e pilotato l'evoluzione naturale selezionando una grande quantità di varietà vegetali e animali oggi definiti come domestici per esempio molte verdure e molta frutta sono il prodotto di selezioni artificiali avvenute nei secoli molti prodotti agricoli che oggi sono prodotti nell'agricoltura sono stati selezionati nei secoli da versioni selvatiche e molto meno appetibili dei loro antenati infatti le mele selvatiche sono molto meno dolci e meno appariscenti di quelle che oggi vengono coltivate e vendute oppure addirittura se fate un viaggio in sud america vi renderete conto che esistono molte più varietà di mais di quelle che invece troviamo noi oggi in occidente perché perché tutti questi prodotti sono stati ottenuti selezionando nel tempo gli individui con determinate caratteristiche e poi facendo riprodurre questi creando così popolazioni ad hoc di specie animali e vegetali con caratteristiche che ci interessavano infatti questo fenomeno non è stato fatto solamente con l'agricoltura ma anche con l'allevamento tanti animali oggi definiti domestici non esistevano in natura sono stati selezionati nel tempo un bassotto ad esempio non può sopravvivere in natura con queste zampe così corte perché non potrà mai correre tantissimo questo pesce così appariscente verrebbe subito predato in un ambiente naturale si trova a sicuro solamente all'interno di un acquario senza predatori oppure le galline che fanno l'uovo tutti i giorni o che non possono volare sono comunque delle prede ambite in un ambiente naturale selvatico quindi anche gli animali hanno subito nel tempo un adattamento selettivo di fatto cosa hanno fatto gli estremani hanno preso degli individui che nascevano con delegatristiche che magari in natura erano degli handicap e quindi in natura la selezione naturale non gli avrebbe permesso di arrivare all'età adulta e potessi riprodurre e poi sono stati tenuti protetti dai predatori è stato permesso loro di riprodursi selezionando così diverse caratteristiche che in natura non si sarebbero conservate quindi di fatto nei vari millenni le varie civiltà umane hanno nel tempo selezionato una grande varietà di gatti cani animali di allevamento e anche vegetazione e così via vediamo come viene spiegato il meccanismo della selezione naturale secondo darwin osservazione 1 spesso i membri di una popolazione hanno caratteri variabili la maggior parte dei quali è ereditata dai genitori osservazione 2 tutte le specie possono generare una prole più numerosa di quella che l'ambiente può sostenere infatti darwin rimase impressionato da una dichiarazione dell'economista thomas maltus il quale nel 1798 schisse che gran parte delle sofferenze umane come epidemie carestie e guerre fossero l'inevitabile conseguenza del fatto che le popolazioni umane tendono a crescere più rapidamente delle risorse ambientali disponibili per sostenerla e oggi questo lo conosciamo bene con il problema che molti paesi hanno della sovra popolazione e dell'inquinamento ambientale darwin dedusse quindi che la disparità fra il numero di individui e risorse disponibili dell'ambiente ovviamente portasse necessariamente a una lotta per l'esistenza a ogni generazione solo una piccola parte riesce a generare figli trasmettendo loro i caratteri genetici che hanno contribuito a farli sopravvivere fino a quel punto quindi diffondendo la loro caratteristica e poi andarla a sostituire nella popolazione che verrà poi chi non raggiunge l'obiettivo della riproduzione viene ucciso prima da carenza di cibo predazione avversità ambientali senza riuscire a trasmettere le proprie caratteristiche genetiche quindi darwin vede in questo meccanismo il processo con cui la selezione naturale va a modificare le specie nel tempo quelle che sopravvivono grazie alle loro caratteristiche all'ambiente e arrivano all'età riproduttiva trasmettono alla generazione successiva le loro caratteristiche vincenti invece se una specie ha una caratteristica che è sfavorevole ambiente questo non riesce a sopravvivere all'ambiente ad esempio abbiamo visto prima come animali che in natura non potrebbero sopravvivere anche un chihuahua non potrebbe sopravvivere nella giungla di fatto oggi esistono perché sono stati tenuti al riparo dai predatori e protetti degli esseri umani in ambienti domestici hanno potuto raggiungere l'età adulta riproduttiva e trasmettere le loro caratteristiche alla generazione successiva molte specie canine che oggi hanno il pedigree sono risultato di selezioni e incroci avvenute nel tempo proprio selezionare e rendere caratteristiche quelle particolarità per cui sono state selezionate quindi arriviamo alle conseguenze delle sue osservazioni conseguenza 1 in un dato ambiente gli individui contratti ereditari vantaggiosi hanno una probabilità maggiore di sopravvivere e riprodursi e tendono ad avere una prole più numerosa rispetto agli altri individui ancora l'altra conseguenza nel corso delle generazioni i tratti vantaggiosi diventano più comuni e quindi endemici nella popolazione rispetto a quelli meno vantaggiosi e quindi la popolazione di una data specie varia nel tempo i caratteri vantaggiosi promossi dalla selezione naturale vengono definiti adattamenti se l'ambiente dovesse cambiare verrebbero favorite nuove caratteristiche generando nuovi adattamenti al nuovo ambiente quindi vedete come un pianeta con la terra dove c'è una tettonica delle placche che fa migrare i continenti lungo le varie fasce climatiche e eventi globali che poi sono cambiare il clima come ad esempio l'impatto di un meteorite mantengono sempre attiva con la costante pressione della selezione naturale che quindi spingere specie ad adattarsi sempre in continuazione i cambiamenti improvvisi o di ampia portata però come ad esempio l'impatto di meteorite possono causare eventi di estinzione di ampia portata definite punto come estinzioni massa che ne abbiamo già parlato nelle strade precedenti questi hanno costellato spesso la storia della vita sul pianeta e quindi sono sempre state una forza che hanno mantenuto attiva la selezione naturale la vita sulla terra continua a cambiare in continuazione e lo sappiamo perché milioni di anni fa al posto di mammiferi sulla terra c'erano i dinosauri che di fatto all'epoca occupavano le stesse nicchie ecologiche che occupano ora in mammiferi quindi i punti fondamentali della selezione naturale sono questi tre il primo è che non sono i singoli individui ad evolvere ma le popolazioni che cambiano da una generazione all'altra non c'è un individuo che si sveglia la mattina e gli spunta un organo nuovo semplicemente le varie caratteristiche compaiono nel tempo generazione dopo generazione poi la selezione naturale agisce unicamente sui caratteri ereditari il carattere acquisito da un organismo durante il suo ciclo vitale non viene trasmesso alla generazione successiva quindi le caratteristiche vantaggiose acquisite durante la vita non possono diffondersi nella popolazione per effetto della loro selezione naturale ad esempio la conoscenza acquisita durante la vita non si trasmette alla generazione successiva o ad esempio una caratteristica svantaggiosa come l'amputazione di un arto nemmeno questo si trasmette alla generazione successiva quindi sono solamente le caratteristiche presenti nei geni che si trasmettono di generazione in generazione e poi infine l'evoluzione non è diretta verso un fine non c'è un fine ultimo verso cui tendono le specie ma cerca semplicemente l'equilibrio l'adattamento all'ambiente che ovviamente variano tra luoghi ed epoche diverse infatti sulla terra gli ambienti variano in continuazione sia per mutazioni climatiche che per la tettonica delle placche come abbiamo già visto nelle strade precedenti una caratteristica un carattere che si è dimostrata favorevole in una situazione specifica può essere utile o addirittura negativa in una circostanza diversa quindi per esempio il fatto di avere un metabolismo molto rapido può aiutare un organismo a sopravvivere in caso di climi freddi ma nello stesso tempo diventa uno svantaggio se l'ambiente fornisce un ridotto apporto calorico quindi in base all'ambiente in cui ci si trova le stesse caratteristiche possono manifestarsi come delle caratteristiche positive oppure negative quindi è sempre un continuo trattamento non c'è un fine ultimo c'è semplicemente un adattamento all'ambiente e questi adattamenti sono sempre in mutazione perché anche l'ambiente è sempre in mutazione quali sono le prove fossili dell'evoluzione cominciamo dai fossili la fossilizzazione è un evento rarissimo spesso avviene quando un organismo morto viene seppellito in sedimenti in un ambiente privo di ossigeno col tempo le parti molle vengono distrutte e degradate e il calco vuoto lasciato nei sedimenti viene riempito dalla calcificazione di minerali quindi di fatto spesso i fossili sono dei calchi che riproducono in modo molto fedele l'organismo a volte si possono conservare anche resti duri come le ossa o i denti altre volte un intero organismo si è conservato perfettamente come l'insetto all'interno della resina di un albero sono stati trovati insetti conservati benissimo all'interno della resina di abri di ben 35 milioni di anni fa però i fossili hanno questo vantaggio permettono agli scienziati di poter studiare il cambiamento delle specie durante le epoche geologiche addirittura è stato possibile vedere come i nostri antenati si sono evoluti nel tempo trovando proprio diverse conformazioni di teschio dei primi omi di compassi sulla terra un'altra prova che viene utilizzata per spiegare evoluzione è la biogeografia o la distribuzione geografica delle specie spesso una specie a modo di diffondersi su più aree più continenti e l'isolamento geografico quindi l'isolamento delle varie popolazioni crea nel tempo varietà diverse della stessa specie fino a quando queste specie si separano completamente è possibile vedere come la distribuzione delle quini lungo il continente africano e asiatico ha creato tantissime specie sottospecie di questa famiglia di mammiferi ma vediamo che molto spesso gli stessi continenti possono avere popolazioni diverse di specie simili perché derivano a tutti quanti da un progenitore comune è possibile ad esempio capire che gli alligatori in australia sono arrivati passando attraverso l'indonesia e quindi in indonesia in australia ci sono varietà simili ma non uguali di alligatori e così via anche la biogeografia è uno strumento utile per capire come le specie si modificano nel tempo e si distribuiscono sulla terra poi ancora ci sono le omologie fisionomiche ci sono animali o piante che hanno le stesse strutture ma adattate all'ambiente in cui si trovano per esempio un essere umano un gatto una balena e un pipistrello sono tutti e quattro dei mammiferi hanno le stesse strutture osse ma queste si sono evolute in modo diverso per esempio nella balena e nel pipistrello le dita sono molto lunghe quindi hanno questa struttura a falangi molto sviluppata mentre nel gatto gli esseri umani le dita sono molto più corte e le falangi sono molto meno sviluppate al contrario il radio e l'unna sono molto sviluppati nel braccio degli esseri umani e nella zampa del gatto o anche nell'arto di un pipistrello mentre sono molto ridotti nell'arto di una balena quindi da queste strutture omologhe è possibile capire che apparteniamo allo stesso genere e che abbiamo un progenitore comune col tempo queste strutture osse si sono adattate all'ambiente in cui l'animale si è poi sviluppato qui vediamo come detto prima un'antica formica conservata benissimo nell'ambra l'ambra sarebbe la resina fossilizzata di antichi alberi e a volte è possibile vedere come specie di insetti di milioni di anni fa sono simili ma non uguali a quelle moderne quindi anche qui poter capire la parentela che ci sono tra le varie specie di insetti vissute nel passato con quelle moderne poi ancora è possibile studiare lo sviluppo embrionale dei vari esseri eventi e vedere che specie diverse hanno uno sviluppo embrionale che comincia con le stesse strutture poi durante il loro sviluppo le stesse strutture vanno a formare parti anatomiche diverse per esempio le strutture che nell'embrione del pesce va a formare le branchie nell'embrione degli esseri umani va a formare gola orecchie mandibola quindi quando confrontiamo gli embrioni appena formati di specie diverse non riusciamo a distinguerle tra loro ma durante loro sviluppo poi i vari embrioni vanno a formare le strutture caratteristiche della specie a cui appartengono quindi qui vediamo che lo sviluppo degli embrioni diversi può formare le specie come quelle di un pulcino di un essere umano di un affibio e di un pesce recentemente lo sviluppo tecnologico ha permesso anche di studiare la comparazione biologica attraverso il confronto del dna delle varie specie questo si chiama confronto molecolare infatti più le specie sono imparentate tra loro e più il loro codice genetico sarà uguale noi esseri umani condividiamo il 50 per cento del codice genetico con quello di una banana quindi alla lontana siamo comunque imparentati con una banana abbiamo avuto entrambi un parente in comune una cellula in comune però se prendiamo specie più vicine a noi come ad esempio un cane vediamo che il dna di un cane corrisponde a circa l'ottanta per cento a quello di essere umano perché un cane è un mammifero ed è un animale quindi è molto più simile a noi rispetto una banana se prendiamo il dna di uno scimpanzè vedremo che il dna di un scimpanzè è il 99 per cento identico a quello di un essere umano questo ci conferma che dal punto di vista evolutivo gli scimpanzè sono molto più vicini agli esseri umani dei cani o delle banane quindi la tecnologia biomolecolare degli ultimi decenni ha permesso ai biologi di avere questo ulteriore strumento per poter poi confrontare le varie specie e capire il grado di parentela che le separa vediamo ora l'ultimo argomento di questa lezione che è la filogenesi della vita la filogenesi è la storia evolutiva di una specie o di un gruppo di specie usando i fossili le omologie anatomiche e il sistema molecolare che abbiamo appena descritto nelle slide precedenti come funziona la storia evolutiva di una specie o gruppo di specie viene chiamata filogenesi i biologi la studiano integrando le informazioni ricavate dai fossili con altri dati per risalire ai rapporti di parentela e posizionarli in uno schema della sua storia evolutiva chiamato appunto albero filo genetico qui c'è un esempio con quello dei cavalli ma questa metodologia ci ha permesso ad esempio di avere una storia filo genetica della nostra specie degli esseri umani spesso ci viene insegnato che l'evoluzione umana è stata molto lineare dallo scimazzè fino all'uomo sapiens in realtà sono state tante le sottospecie umane che sono comparse sulla terra prima dell'uomo sapiens l'uomo sapiens è solamente una delle tante specie umane comparse tutte insieme con probabilmente una specie di ramificazione fino a quando la competizione tra loro e l'ambiente ha fatto sì che solamente una specie non scisse fuori infatti l'uomo sapiens sapiens ovvero noi siamo l'unico filone sopravvissuto dei vari sottogruppi di uomini che sono comparsi sulla terra come ad esempio appunto l'uomo neanderthal che è imparentato ovviamente la nostra specie ma che poi di fatto è un filone che si è estinto poche migliaia di anni fa un altro fattore che dobbiamo considerare è la convergenza evolutiva specie completamente diverse da loro vivendo in un ambiente simile acquisiscono nel tempo un aspetto simile ad esempio qui vediamo tre specie completamente diverse tra loro una balena che è un mammifero i pesci che sono un gruppo completamente a parte e poi l'ittiosauro che era un dinosauro marino quindi era un rettile come potete vedere tutti e tre questi animali hanno una forma simile c'è addirittura chi nella sua ignoranza pensa che la balena sia un grosso pesce in realtà no la balena non è un pesce la balena mammifero litiosauro non è un pesce litiosauro è un rettile però hanno tutti quanti l'aspetto simile ovvero con una forma affusolata e idrodinamica e con delle pinne perché nell'acqua quella è la forma migliore che si può avere per poter sopravvivere quindi quel caso è stata la selezione naturale spinta dalla condizione ambientale quindi dall'acqua a dare a queste specie una forma simile quindi molto spesso il fatto che le specie si assomiglino non vuol dire che siano imparitate da loro o che abbiano qualcosa in comune semplicemente si sono evolute nello stesso ambiente e esempi di convergenza evolutiva sono numerosissimi nel mondo in australia abbiamo un gruppo di mammiferi in marsopiali che sono totalmente diversi dai mammiferi che popolano gli altri continenti ma che in alcuni casi gli assomigliano perché in australia le condizioni ambientali terrestri sono simili a quelle che ci sono in africa o in asia la gravità è la stessa la densità dell'aria la stessa e quindi in quelle condizioni ambientali un animale terrestre tende ad avere una forma simile possiamo distinguere un marsupiale dai placentati perché il primo al marsupio il secondo ha la placenta interna possiamo andare avanti e vedere come si può definire una specie quindi abbiamo detto che spesso l'aspetto fisico o la somiglianza fisica non è un carattere sempre valido per poter distinguere le specie ci sono specie che sono biologicamente lontane ma che poi il atta si assomigliano poi addirittura nella stessa specie ci possono essere molte caratteristiche differenziano ad esempio degli esseri umani ci sono tante etnie che vanno a modificare l'aspetto dell'essere umano quindi ci possono tante versioni di esseri umani sulla terra e così via quindi vedete che la morfologia non è sempre la caratteristica ideale per poter classificare una specie anche se per molto tempo nella storia la morfologia è stata una delle caratteristiche principali per poterle classificare poi vedremo che con le tecnologie gli strumenti che abbiamo oggi rispetto al passato la classificazione viene fatta anche in modo diverso ancora tutt'oggi gli biologi stanno classificando e continuano di classificare la vita sulla terra perché è molto complesso non è poi così facile ci sono milioni di specie sulla terra non ancora ben classificate quindi come si può definire una specie possiamo dare la definizione classica di specie quella formulata nel 1942 dal biologo ernest mayor vissuto tra il 1904 e i 2005 secondo la quale una specie è un gruppo di popolazioni i cui membri in natura hanno la potenzialità di incrociarsi e generare prole feconda ovvero prole che loro volta possono generare altra prole si definisce isolamento riproduttivo la condizione per cui è impedita lo scambio di geni tra specie diverse ad esempio un cane e un gatto non possono generare parole quindi sono geneticamente isolati ma ci sono anche organismi che si producono in modo assessuato come prokaryoti a cui questa definizione non può essere valida perché loro ovviamente non hanno bisogno di accoppiarsi per riprodursi ed altre specie che invece si producono per via sessuata come le querce in modo intraspecie ovvero alcune specie vegetali possono incrociare geni con quelle di altre specie esiste anche questa caratteristica alcune specie queste si chiamano riproduzione inter specifici quindi questa è solamente una definizione classica e generica valida per gran parte delle specie che conosciamo ma e vedremo che ce ne sono anche altre e quindi possiamo dire alcune ad esempio altre definizioni di specie infatti la maggior parte delle classificazioni di specie sessuate e assessuate fossili o viventi si basa sulle loro caratteristiche morfologiche questa è la definizione morfologica ma abbiamo già visto che con la convergenza evolutiva non sempre questo è vero quindi ci sono vantaggi e svantaggi nell'utilizzare questo tipo di classificazione poi altre definizioni si basano sul ruolo che una data specie ha nell'ecosistema che occupa un ruolo definito come nicchia ecologica ad esempio il predatore o la preda di un dato ecosistema infine un'altra definizione si basa sulla storia evolutiva della specie chiamata appunto definizione filogenetica e l'abbiamo visto già nella strada precedente la sistematica in generale classifica gli organismi sulla base della filogenesi vediamo come funziona questa metodologia questo sistema sviluppato dall'inneo nel diciottesimo secolo viene utilizzato ancora oggi sebbene si basa su caratteristiche fisiche e presenta una nomenclatura binomia ovvero ad ogni specie abbiamo abbinati due nomi in latino che definisce il genere e poi la specie facciamo l'esempio del gatto che secondo questa classificazione viene definito come felis catus dove la prima letter della prima parola viene scritta in maiuscolo vediamo come si può classificare questa è tutta la filogenesi quindi abbiamo la specie felis catus che appartiene al genere felis che a sua volta appartiene alla famiglia dei felini quindi generi simili sono contenuti all'interno della stessa famiglia poi abbiamo l'ordine è un carnivoro quindi questo appartiene all'udine dei carnivori ea loro volta all'interno dei mammiferi quindi il gatto è un mammifero carnivoro e quindi siamo scesi già di ordine e classe andiamo ancora più giù e troviamo il film cordata ovvero gli animali che hanno una colonna vertebrale appartenenti al regno degli animali a sua volta il regno degli animali appartiene al dominio degli eucaria ovvero agli organismi costituiti da cellule eucariote quindi vedete come la filogenesi classifica tutte le specie con questa metodologia gerarchica tutta questa classificazione è un lavoro ancora in corso anche perché la complessità della biosfera terrestre e nota i biologi che ancora oggi non hanno scoperto tutte le specie presenti sulla terra sia ancora viventi che quelle che sono vissute nel passato è una ricerca costante e continua fino a pochi anni fa questi erano i cinque regni in cui erano suddivisti tutte le forme di vita della terra abbiamo un albero filogenetico che parte dal regno dei monera ovvero gli organismi prokaryoti unicellulari e poi nel tempo si diversifica in altri regni sono iniettati protisti funghi piante e animali ho detto fino a poco tempo fa perché le ultime ricerche che si sono ottenute anche grazie alle ultime tecnologie come l'ho già citato studio molecolare ha invece identificato quest'altro albero filogenetico per poter rappresentare meglio l'evoluzione della vita sulla terra infatti studi molecolari successivi hanno riorganizzato l'albero filogenetico dei cinque regni in uno che invece divide tutte le specie della terra in tre grandi gruppi che sono gli archea gli eucaria e bacteria la maggior parte della vita sulla terra è costituita da organismi unicellulari mentre gli organismi pluricellulari eucarioti sono una piccola parte anche se ai nostri occhi sembra il contrario ma ci sono molte più forme di vita unicellulari dentro la crosta nei fondali oceanici e anche sulla superficie della terra piuttosto che tutte le forme di vita eucariotiche multicellulari che vediamo con i nostri occhi in superficie osservando questo albero filogenetico vediamo che a un certo punto gli archea e gli eucaria si sono separati dopo la separazione del gruppo dei batteri tutto questo è stato ottenuto studiando in particolare il dna mitocondriale che è il dna contenuto solamente nei mitocondri delle cellule eucariote e che ci ha dato molte informazioni sulla loro evoluzione del tempo possiamo riassumere tutta la lezione in questa mappa concentrale la vita ha avuto origine nella terra primordiale a partire dai procarioti ai quali poi sono seguiti gli eucarioti unicellulari ovvero i procarioti sono le cellule prive di nucleo dove dna è diffuso nel citoplasma gli eucarioti invece sono le cellule con il nucleo e organi molto più complessi dove dna e conservate protetto all'interno appunto del nucleo poi questi organismi eucarioti unicellulari genereranno anche organismi eucarioti pluricellulari da loro avremo circa 400 milioni di anni fa la colonizzazione delle terre emerse e tutto questo lo sappiamo grazie a un'ampia documentazione di fossili poi la vita è soggetta a evoluzione secondo la teoria di darwin basata sulla selezione naturale che è stata dimostrata grazie a documentazione fossile biogeografia e omologie strutturali e molecolari tra le varie forme di vita questa selezione naturale determina una maggiore probabilità di sopravvivenza che hanno gli organismi grazie a tratti ereditari vantaggiosi in un determinato ambiente e questo fenomeno per cui sono caratteri ereditari vantaggiosi selezionati dall'ambiente viene definito appunto adattamento poi la vita si è differenziata in numerose specie che sono definite per biologia morfologia ecologia e filogenetica queste sono descritte dalla filogenesi usata per la classificazione con alberi filogenetici e nomenclatura binomia ovvero dove ogni specie è definita da due nomi particolari il genere e la specie tutta questa classificazione organizza in modo gerarchico tutta la vita sulla terra in tre diversi domini i bacteria gli archea e gli ocaria detto questo ho finito anche questa lezione nella prossima lezione parlerò di protisti prokaryoti piante e funghi potete trovare questa lezione e tutto il mio corso di biologia sul mio canale youtube e nelle mie pagine instagram e facebook prof antonio loiacono grazie